È un clima di assoluto equilibrio nel senso che non eravamo scarsi dieci giorni fa e non siamo dei fenomeni nemmeno oggi. Equilibrio, analizziamo errori e cose positive in modo da lavorarci meglio visto che abbiamo qualche settimana un po' più lunga rispetto a tutti questi turni infrasettimanali che abbiamo avuto. E possiamo lavorare anche sull'aspetto fisico che magari non si poteva caricare tanto. Penso che la parola più giusta da utilizzare in questo momento sia equilibrio. Penso che partite semplici non ce ne siano anche perché abbiamo visto altre squadre che magari sulla carta non hanno un nome importante o una storia importante. andare su campi di squadre costruite per vincere e creare comunque grattacapi. Penso che sia una partita da preparare con assoluta concentrazione nei minimi dettagli come abbiamo sempre fatto. Consapevoli anche del fatto che è una partita che giochiamo in casa visto che la gente ci sta spingendo in una maniera importante e abbiamo trovato degli equilibri importanti da sfruttare e da cercare di portare a casa altri tre punti. Avevo letto che erano sette mesi che non si vinceva in trasferta quindi anche da quel punto di vista dare continuità. L'anno scorso ho vinto un campionato dove in trasferta non ho mai perso. Quindi se tu ci fai un attimo di attenzione alla lunga sono punti pesanti che magari in alcune circostanze valgono doppie. Sì, è un periodo che ci farà capire anche di che pasta siamo fatti dal punto di vista nervoso perché sono partite che dal punto di vista della concentrazione e dell'attenzione magari in settimana si preparano anche abbastanza facilmente. Vai a giocare a Bari e 15-20 mila spettatori. Però secondo me è meglio ragionare una partita alla volta e concentrarci sul fatto che questa settimana abbiamo dato una sterzata importante, abbiamo fatto tre risultati importanti e degli spezzoni di gioco di calcio importante.